Vive da mesi all'interno della propria auto. Umberto Cossa, 44 anni, racconta di battersi quotidianamente affinché venga assegnata una sistemazione che tolga lui e la sua famiglia dalla strada. L'uomo ha posto infatti il suo caso all'attenzione dell'assessorato alle attività sociali, ma afferma le liste di attesa per l'assegnazione di un'abitazione sono troppo lunghe e intanto la sua attuale sistemazione rimane alquanto precaria. Cosa vi ha spinti a vivere in auto? La nostalgia perché abitavamo qua sopra, in questa casa, purtroppo non lavorando più, io ho perso lavorato più di un anno, non potrei pagare più l'affitto, mi sono andato più di morosità e mi hanno buttato fuori. Non chiedo magari subito una casa popolare perché so che la situazione è difficile, ma magari darmi solamente una stanza dove poter stare con i miei figli, poter mangiare, poterci lavare, queste cose, perché i miei figli stanno alloggiati tra parenti. In questi istanti io e mia moglie ogni sera veniamo qua e ci mettiamo a dormire in macchina. Purtroppo quello di Costa non è un caso isolato, sono centinaia infatti negli ultimi mesi gli esempi di nuova povertà e di precarietà sociale segnalati alla Caritas e gli uffici delle attività sociali del Comune di Palermo.